Ciao ragazzi di Mr. Student, siamo qui ad Ingegneria, siamo qui ad intervistare gli amici di Ingegneria che sono pronti all'esame di disegno. Andiamo a curiosare, dai! Ciao, devi fare un esame? Sì. Che esame? Disegno. Sei agitato? Abbastanza. Come è questo esame? Come è strutturato? Sì. È strutturato in tre prove, tre scritte e un orale. Adesso devo affrontare l'ultimo. Hai anzi? Ma non molto, abbastanza tranquillo. Come speri che andrà questo esame? Spero bene. Ok, grazie. Grazie, ciao. Ciao, devi fare un esame? Sì, disegno. Di cosa si tratta? Si tratta di disegno meccanico visto al CAD, qualcosa abbastanza complesso. Speri di prendertelo? Conto di prenderlo perché è già la quinta volta che lo faccio, quindi non ce la faccio più. Ok, ti ringrazio. Anche tu questo esame? Sì, 1200 volte. Come mai? Nessuno lo sa, solo questo non riesco a prendere, pagherei per saperlo. Come è il professore? Quale professore? Io non ho avuto contatti diretti col docente, solo con le tracce. E le tracce non si prende. Come mai? Non è irreperibile il professore? Ma non è irreperibile tutto, materiale e tutto. Il problema è che lì non si prende la prova. Non lo sappiamo perché. Hai ansia quando affronti questo? Ormai ho le flebbo completamente attaccate perennemente. Ok, grazie. Di niente. Come definisci il professore? Una persona molto professionale. Sicuro? Sì, sì, sì. E come sono i professori che dovrei affrontare? Esigenti. Da 1 a 10 quanto ti definisci, tra virgolette, stronzi? No, no, no. Zero. Secondo voi, come sono andati i vostri alunni in questo esame? Vabbè, i risultati dell'esame non ci sono ancora, però il vero problema è la differenza, il grosso scompenso che c'è tra i prenotati e quelli che effettivamente vengono a fare l'esame. Stiamo riscontrando purtroppo da più tempo che all'incirca un terzo solamente degli allievi che fanno la prenotazione vengono a sostenere le prove scritte. È una cosa, diciamo, un pochettino anomala, strana. Per quanto riguarda le prove scritte, devo essere sincero, insomma, le prove normalmente... Noi facciamo tre prove scritte. Le prime due, una prova sul calcolo di una tolleranza e una sezione di soliti assiastimetrici è superata abbastanza facilmente. Sul CAD ci sono delle volte, diciamo, dei problemini. Però, diciamo, fondamentalmente riscontriamo nell'arco dell'anno che comunque almeno il 70-80% degli allievi riesce a superare nell'ambito... non dico, diciamo... diciamo, nell'anno successivo all'anno di costo riesce a superare, a raggiungere, diciamo, l'esame. D'accordo? Eccoci alla Facoltà di Farmacia. Siamo qui in compagnia di Antonio Foglia e parleremo delle liberalizzazioni del Governo Monti. Allora, Antonio, di che associazione sei? Allora, io sono il segretario dell'Associazione Iperuranio e oggi vogliamo parlare un po' della liberalizzazione che Monti ha decretato nell'ambito delle farmacie. Noi sappiamo che le farmacie, quindi, saranno aumentate di numero. La farmacia ogni 3.000 abitanti. Quindi, in totale, a livello nazionale, ci saranno 5.000 o 7.000 farmacie e ci saranno a creare, soprattutto, nuovi posti di lavoro per noi farmacisti, neofarmacisti e nessun privilegio, diciamo, riguardando i farmaci di fascia C. Infatti, perché, come ha detto Monti, non c'è nessuna liberalizzazione, quindi nessuna vendita nelle parafarmacie. Non vedo questo giustificato, se vogliamo dire, sciopero anche dei farmacisti. Quindi, io non so quale sia il problema per i titolari delle farmacie, se non a livello economico. Noi studenti, soprattutto studenti figli di chi non è titolare di farmacia, siamo più che contenti. E' pro, quindi, a questo decreto, diciamo. Sì, noi, dell'associazione Iperuraneo, abbiamo una visione buona di questo decreto. Quindi, va bene così. Grazie, Antonio. Prego. Siamo qui con la professoressa. Rita Quino, ordinario di tecnologia farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Salerno. Allora, professoressa, cosa sa dirci riguardo le liberalizzazioni? Sì, questo discorso delle liberalizzazioni io credo che sia abbastanza importante. Da quello che abbiamo visto fino a questo momento, non è una vera e propria liberalizzazione. Quindi, continueranno ad essere aperte le farmacie da farmacisti che hanno vinto un concorso. Ciò che è veramente importante è che, invece, dalla legge è stato notevolmente aumentato il numero di farmacie disponibili e stimolati i concorsi che si avranno, quindi, speriamo, nel prossimo anno, più o meno un anno, un anno e mezzo, per i tempi che sono riusciti a vedere fino a questo momento. Quindi, credo che sia molto importante, soprattutto per i giovani laureati in farmacia, che avranno una grande possibilità di accedere a dei concorsi e quindi di poter aprire una propria farmacia con dei costi, tutto sommato, abbastanza contenuti, perché non devono né comprarla, ma dovranno naturalmente vincere un concorso. Quindi, più possibilità di lavoro, sicuramente, ma soprattutto più possibilità di lavoro per i giovani preparati che saranno in grado di vincere questi concorsi. Grazie mille, Presidente. Allora, guardate, bisogna fare chiarezza su questo. Farmaci, Basciacci, in base alla legge, sono con ricetta. Esatto. Allora, la ricetta può essere spedita solo in farmacia. In farmacia. Non c'è una liberalizzazione, significa che chiunque sia laureato può aprire una farmacia dappertutto. A me sta bene la farmacia, ben venga, ha dato tanti posti di lavoro anche ai giovani, ma è un'altra cosa, cioè si vende un altro tipo di farmacia. Finché c'è una ricetta, la ricetta deve rimanere in farmacia. La cosa importante, ripeto, è fare i concorsi e avere tante più farmacie. Buongiorno a tutti, siamo all'Ateneo per la migliorazione del nuovo store del negozio Fisciano, con il nuovo simbolo dell'Università, Campus Salerno. Andiamo a intervistare il fotore di questo store. Siamo qui con il presidente Gianfranco Di Santi, il fotore di questo store. La vorrei chiedere, com'è nata questa idea? L'idea è nata già da 4-5 anni, che l'Università aveva bisogno di fare pubblicità al proprio marchio all'esterno dell'Ateneo, visto che è già un campus autonomo, ha diversi impianti sportivi, così avere la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio all'esterno presso altre università. Tutti i prezzi accessibili, penso, per gli studenti dell'Università. Siamo qui con Vincenzo Sansone, il consigliere nazionale degli studenti. Le vorrei chiedere, com'è mai l'Università ha voluto investire in questo store? Perché per questa università un principio fondamentale sono i servizi dedicati agli studenti. Tra i servizi dedicati agli studenti ci sono le migliori università, nei migliori campus europei e oltre l'Oceano ci sono tutti gli stori con il merchandising della stessa università. C'è da dire che questo store servirà molto a pubblicizzare la nostra università e a sponsorizzare, portare, come dicevo prima, in campus europei e oltre l'Oceano il logo dell'università. È importantissimo che gli studenti abbiano un ulteriore servizio come questo all'interno dell'Ateneo, anche perché oltre al merchandising del marchio turistico dell'Università, all'interno di questo store, gli studenti potranno usufruire dei prodotti di cancelleria, come mi dicevano a breve, anche di un'edicola che ad oggi non è ancora presente all'Università. Siamo qui con il signor Ciro Di Santi, rappresentante del Comitato dell'Ateneo e vorremmo chiedere come mai in una store dell'Ateneo ci siano articoli sportivi. Beh, è ovvio insomma che sia così. Se l'Università di Salerno offre questo servizio, diciamo, ovviamente in collaborazione con i ragazzi, il mio augurio in bocca al lupo all'amico Gianfranco, un servizio completo, insomma, l'idea di Campus al 100%, abbiamo gli impianti come le piscine, i campi da tennis, i campi da calcetto e qui ovviamente si trova tutta l'attrezzatura, anche a prezzi modici ovviamente.